Adesso parliamo di India. Dal 2019 siamo felici di presentare una nuova partnership della formazione. Una partnership non solo per gli scambi degli studenti, ma anche per la ricerca e per tante altre nuove prospettive. Il presiduto Sumaya College di Bombay, con cui sono in essere accordi non solo per progetti di scambio di ricerca, ma anche iniziative di beneficenza. L'Istituto di Milano dei Sanzi farà carico il fatto delle istruzioni secondarie nei campi di design e moda di una persona prima di metti del nord dell'India. Così facendo adotterà un designer. Ciao a tutti, sono il direttore di Sumaya, l'Istituto di Manusia, e la ricerca di Sumaya di Bombay. I congratulate you on the 20th anniversary of your state institute, that is the Institute of Italiano Design, which is at Pagovia in Italy. We are the first institute in India with whom your institute has signed this MOU and I hope that this will be a very fruitful endeavor between the two institutes. Good luck to all of you.